la faccio più merenda, fragole lo so che non è proprio il periodo di fragole ma sono buonissime non vedo l'ora di mangiarle cucina amore cosa ti sei fatto amore? riso e tonno riso e tonno mi sto facendo la mia omelette mio padre ha i cornili ecco la pasta poi adesso la condiamo con il mio amatissimo bellissimo condimento vamo la master chef e altro adesso tengo un po' di condimento per il resto e vamo la sono super proud guarda che bella bellissimo bellissimo ecco un bel cacciugo fatto pranzo è servito fragole spuntino serale primo spuntino mi hai lasciato i biscotti biscotti cioccolata papà e camomilla e camomilla e camomilla